In questi mesi l'Accademia Reggiana ha messo in luce tutta la sua capacità di innovare, anche sfruttando quei strumenti di comunicazione che tutti siamo stati costretti ad usare per continuare ad avere rapporti con l'esterno. Mi riferisco al digitale, quindi l'archivio digitale, un'offerta digitale e anche la didattica digitale. La Regione Toscana da tanti anni collabora con l'Accademia, che è sempre pronta ad accogliere nuove sfide e soprattutto a costruire delle forti collaborazioni con tutte le altre istituzioni che in Toscana si occupano di musica. Quindi questa sua propensione alla sfida e all'accordo vedrà una nuova collaborazione fra la Regione e l'Accademia Reggiana, che riguarderà la costruzione di laboratori di perfezionamento per musicisti legati alla musica, per agliovisivo e per il cinema. Anche questa volta valorizzando le collaborazioni con le orchestre della nostra Regione. Quindi noi siamo molto felici di essere qui questa mattina a dare il via a questa nuova sfida.